io dico 3-0 anzi dico 4-0 ma è 4 questo ma mandate in video a fifa? ma con 4-0 ho tanti colleghi cosa è bella mamma mia è proprio bella di letto di letto porco cane veramente bella ho chiamato mamma e ho risposto mariana no in culo a cosco stiamo andando da primal smart final non avevo capito how do you sleep when you lie to me ma senti pure la nocimia te? amore ma non lo so eh ma mi chiamo aiutare lì per vedere se c'è un leggo non sa quanto dove fanno pagarlo bravo doppio minimo buon tole no 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 Noi dai! va bene leo! bravo! però non fai scemi! è un bel pomodoro! si sa quando stai a correre dentro l'aria quando la passa sta sempre indietro la palla vai tira bravo no le ma perché fai cucchiaio ci sta nessuno porta stavo col sinistro vabbè ah ma non era un cucchiaio si 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 sto a cucchiaio perché serve il cucchiaio non ce la fa il portiere esatto no come è il bagno che ieri sono rimasti no oddio hai preso preso no brutta palla cagato ho fatto il triangolo normale 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 Cristiano Ronaldo Douglas Costa Con la sua capacità, questa è la possibilità di avere una scelta per la scelta e prendere la scelta Conte Non è la passaggio, ma è passaggio La passaggio è passaggio La possibilità di prendere la scelta La scelta è la pace E' facile Vai E' facile Entra 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 Stai solo Dai capri sopra No Nooo Porco dio un tiro Cazzo Ho presato i piani Ci so Ha portato il battito Ha ripreso Alessandro Tutto Siamo peggiorati veramente tanto Perché Perché Non è proprio Stiamo a difendere male Dobbiamo sempre giù Se non andiamo a spedire il bar pallone non arriviamo mai Lunga Dario La cosa Una cosa chiara di sto gioco è la difesa E' la difesa L'attacco C'è una difesa di scopi Un passaggio Che dite qui non ci possono Capito come i tersini devono rimane dietro Ma non andiamo a portare le scopi Da come la porti di giù Yeah Cristiano e Rinaldo Scusa Nooo Ma come ti sei messo le Pocco dio Ti sei allargato quando c'è la palla dentro Com'è ti sei allargato? E' sono allargato perché C'avevo quello appiccicato e poi me ne chiudevo troppo Ma appiccicato te O te c'hai stato fisso A getto il testo appiccicato quando non c'è nessuno Dai Leonardo Vabbè non c'ho passaggi te Che devo fare? Non ce l'ho ai passaggi Centro campo c'è nessuno Chiama e parla Dimmi guarda Mettete dell'auto Ma chiama me adesso? Se sto un posto al centro campo Cioè viammi vicino Eh te so Ci sono provato Se non mi vedi che ti devo dire Guarda un'altra parte Qui un altro il giocatore Parla però Porco dio Te l'hanno tagliata la lingua Te lhanno tagliata la lingua Te lhanno tagliata la lingua Che perde il tempo e gioco Allora prendiamo la palla Questa parla Qui c'è Questa parla Il meteo Edio Questa parla Questa parla Edio amo siamo siti cosa è giocato bene quando sei parlamo 12 vai dietro mette del lato basta veramente ma lunga stai sito vuoi prendere di che io capisco cosa c'è stato cercare concentrato io signor vince io ho tutto chi no me no no leo come cazzo fai tira fuori dalla nuove di quando si parlavo ma io lo dico sempre parlavamo si parlamo si parlamo si parlamo no no davvero la comunicazione è importante per tutto calcio mamma so portiere vai da bravo ma giro qui gira non l'ha mai avanti non è un problema ronald da so gioco hanno fatto il gioco no bravo mamma mia ronaldto vuoi chi è venuto facciate ciao Questa è una buona opportunità Apparati! Oh! Vabbè c'è stato! Vediamo la posizione qui! Non fa arrivare! Stiamo a giocare a mano! Siamo benissimo dentro di bene al secondo tempo! Dobbiamo riposire l'acqua! Me la devi dare, non me la devi dare! Bravo! Arca puttana! Guarda dove c'erate prima! No faccelà, no faccelà! Oh, faccelà! No faccelà, facilmente! Abbiamo avuto l'acqua! Un'altra volta! 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 Dovrebbe essere facile comunque questa partita Dovremmo giocare un po' più tranquilla La fantasia possiamo sbutta qua Si si Zero Bravo Ah no Bello Ottio Sei sempre te Porca puttana Dai Se ancora c'erano altri giocatori E gli danno il fallo Perché fa qualche cambio Vai Bravissimo Tranquillo Vai Bravissimo Orca puttana Che cazzo Si allunga la fine così Dai mi veniva l'uomo addosso Stai da solo se Oh Quocco due L'ultimo Si esatto non me fa mai tirare Vimmi rifaci la finta all'indietro l'avesse per scontato una cosa del genere quindi continuando avanti appena se spose fermava entravo dentro capito che so che l'avevo per scontato che faceva finta a sinistra faccio ma non tanto fama tira una punizione una soddisfazione cazzo cosa mi sto giocando 0 0 della stella rossa con bayern monaco no pazzo ma che cazzo dici ma che marbaglio san forma non sono spiega ma la galla non è che non mi fattirà oddio non lo dico qua il suo del portiere da come le pare c'è arrivato attacca papam oddio oddio cazzo c'è vada l'ictico dietro non si ripetere 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 lei è la brutta ooooooooooooooooooo ma io si vanno rientra tutti l'icto è rotto metto bonucci ci sei? non mi sembra sufficiente così da gesto ma ieri sera così da gesto tranquillo ha fatto sa te la vuole gioco ho visto però un po e non fare gioco lì devi fanno i ponsaghi eh eh ci stava provata di bella sali o spruetta dove vai cavale così vabbè questo terzino però devi sto dietro non ce l'avevo io che cazzo comando solo terzino un tiro io no vabbè mi fanno più i giochetti eh fermo fermo asco io occhio bravissimo leonardo mamma mia la campione questa è tossa porca troia da rimanevi lì e che cazzo ne so io mai scrociate vai per il tocco e ce l'hai dentro abbiamo ce l'abbiamo no c'è un po tono capo no mania all'ultimo adesso ci siamo salvati mamma mia ho fatto sta giocata la ferma del mio lo so che mette il suo perere o se stava giocata la cosa 170 migliorare quante cazzo no ma devo fare da un eromo sento troppo zero zero dalla rossa madonna amico mio stavano a 280 km sulla macchina 200 sull'autostrada madonna paris real madrid paris 2 a 2 no stava a pensare pure io c'è vero manca l'ultimo è stato un amore in più so bella partito 20 mamma mia da un euro che un sacco e mezzo 12 20 del tottenham con l'olimpio cos'è una partita di morigno in cerchio non ci siamo Sì, ti? Sì, ti? Vai! Vai! Oh, si sta a parlare! Difesa giocato bene eh! Molto! La difesa è stentiamo a 7 antiversi! Andiamo contro! Oh, che cosa è questo? No, no, no! Te vai in largo, io rientro! Ho fatto tutto! Oh mamma, ho avvelenato! Ho avvelenato! V2! 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 Il capitano ha uno due lì di balletto ah! Proviamo! V2 Stirling! Esatto! V2! 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 No, alè! Leu 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 leu! Oh, la palletta ha tirato! E' un po' pure no, il mezzo. Andavamo a fare il gioco... questa è la natura del lavoro e... è appunto fuori con lui oh cazzo, pensavo a me stava a seguire il centrocampista perca putt... esco io rientro vai ma per tutto frate, andiamo... va a girare il centrocampista si, si, rimaniamo se fanno i passaggi nostri ok portiere fammi anche sotto casola eh è quadrato in contro ancora Cristiano Ronaldo non mi hanno a fuori tempo? no 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 tira non ti chiude su questo posto ancora bravo vai Ronaldo, gira te, tira questo tiro a giro, ti stanno fissa eh? non mi piace una fissa un tiro dritto io c'è stata una bomba a primo palo ah ti mostri te? te 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 tu te non è una posizione la posizione non pregiò però no 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 Arco Dio, lo sapevo che correvo io addosso Donna Vai che ha preso Chi sto sull'arco Vieni per l'arco Lui va da rientro Ma che c'è da bravissima Un golino Stava corso piano piano No, sopra, sopra Un secondo Cazzo No, ma non corso Vediamo proprio il tempo del cross No Ma che ce l'hai Uno, due, sub Perché mi scappano tutti questi cazzo i giocatori Per esempio in uno, due, mi scappano proprio Bene No Ancora No, negro Uh, mamma mia Ha passato Arco, due, pensavo fosse entrata Sì, ma quanto cazzo corrono si i giocatori, oh Mamma mia, sta macchina di tuffo No, via Spazio strano No No, ho我的 paura Medica Paura Qua non potevo, potevo nello spazzola Amara Qua Dai che ce l'hai! L'ho vengo qua Dai che ce l'hai! Nooo! Buco! Che cosa dicevo? L'importante è tenere la posizione, vieni a fare quello che cazzo che fa! Ma dammi! Togliami dietro! No! Oddio! Oddio! Mamma mia! Che cicata! Madonna! Ne giro come uno che si gira tanto! Tasmania! Che cazzo te giro eh! Massa come una pigna come ha tirato eh! L'ho detto io basta con questo tiro a giro! Tira forza! Ti rispeccio eh! Stacca tenca! Stacca tenca! Si era proprio una bomba! Poi si girava benissimo! Cambio il colore del neon! Non lo metto ne uno rosso! E' lo rosso! E' come uno scienziato pazzo con sti capelli! E' lo viola! E' lo viola! E' lo viola! Oh! Oh! Viola! 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 No! E' un viola soffuso! Dai! Stessa concentrazione! Parlasse! Non c'è un bene eh! Pazzo divento soprattutto eh! Quando io sto bene in difesa! Pazza che faccio il mio tipo che non faccio proprio riuscire a cazzo! Sì che fai il minimo... Bravo! Il minimo indispensabile! No ma mi sento bene anche di pressing! Ti coprilo! Bravo! E' che va a cambiare giocatore? La ultima linea di difesa! Ma quanto forte era! Guarda te eh! Bravissimo così! Bravissimo! Portalo su! Nooo! Penso che stavo ancora! Marco cane! Ho preso! Mmm! Vai! Centro eh! Tranquillo! 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 Ma no! Siamo! Troppo giuro! Troppo giuro! Troppo giuro! Troppo giuro! bravissima 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 cosi ne piace giù come corrisponde io ti ho mangiato le maritano ambramu nooo nooo leee no den no la mamma rala no lo so questo solo no le si era passato non si sa perchè la passata è bello che la nitropezza del cibo al portiere va vai come fallo ma convinto convinto nooo 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 vai sali 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 lunga ah per caro buono bravo così mi piace cronny uuuu subito subito bravo che c'era uuuu l'ho fatta come di che faccio piargo così eh bravo 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 piira bravo bravo si ma la rosa bravo Non ti può facciare. Vai, vai, tranquilla. Vai, tranquilla. Vai. Entra, 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 entra. Ha mangiato? Oh, ti ho fatto la cosa di... Chiudimelo, chiudimelo. Bravissimo. Ha mangiato qua. No, leo, sono ironico. Vai. Bravo, ancora. Bravo. Tranquillo. Ormai tira. Bravissimo, leo. Ma ma che stai giocavo. Dai, io direi qualche cambio tra poco. Eh? Io direi qualche cambio tra poco. No, cazzo. No, cazzo. No, cazzo. No, cazzo. No. No, cazzo. Ma lo cazzo è... Sopra. ora vedi quando si parlavano lo stanno giocando bene ho detto quando si parlavano è facile aspetta stiamo attaccando dovevo guardare la guerra che capisci bene benissimo a me non mi piace il rischio no no ho fatto mettiamo la lunga Iguain non vedo manco è un buon modo di rinunciare il gioco rinunciare Ramsey se mi aritavi lunga tranquillo eh dai Leonardo Leonardo lo giuro gli avevo fatto la bicicletta ti stai fai 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 giochetti fammelo passarci Ramsey Bernadeschi guarda che stai solo Douglas Costa prendendo i giocatori qui è Benadeschi è il mancino o il destro è il mancino è il mancino siamo in linea no no Elena aspetta un attimo va cazzo va cazzo what what ehm maybe maybe Elena come giro va tranquillo va tranquillo vai tranquillo 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 dammi la costa è lunga vai che cazzo è arrivato stiamo ancora stiamo ancora sì sì dai chi dirò vai tranquillo bravissimo va bene bravo dove si esce sto bravo c'è bravo è per не lo sappia bravo bella prestazione che calor, che campanaticoteca, che calor mamma questa è una Nutella su Tinder, mortaggio, bellissimo si Anita e Zard, ho trovato questa ragazza su che è per tipo mio? è una bella prestazione bello bello questa qua, guarda un po' proprio su, bella ragazzetta mortaggio non sta funzionando così bella prestazione ma insomma ma ho giocato questa partita fisico mio proprio avete? beh si fisicamente è bello ma ma quello lo faccio mazza bella vai mi sono scordato che stiamo sempre in streaming oh davvero ah che la telecamera che? si oh occhio i tercini eh eh si con lì per cosa si vai facciamo tutti 1-2 partianza rapida ma cosa hai? è normale bene sono un amante dei tocchi non lo faccio solo vai lunga 1-2 1-2 no 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 porca puttana pensavo come sei ma è grossa? eh si vai tira vai è un po' lento il titolo vai bellissimo chi? vai no mettete sul sinistro ecco 2 pure il time finisce verde ho preso sul sinistro devi metterla ma dai questa è la destra l'ho segnato guardate quanto è uscito no mi piace che hai ripreso il time finisce verde mi serve una bella differenza si però lo sai che devi al tuo gioco ora devi capirlo quando fa perchè quando vai a fare il time finisce ti perde in tempo e hai detto hai visto prima che ho costato questo avventurare di rigore e quello a fare il time finisce ma non ne vado no quindi va un po' un po' di bola con questi piedi no questa pensavo che diventasse buona lo sai no frate questa è una ho fatto pure un'altra moda la faccio vedere sto gioco la scrociata vai che ha preso lunga bello le io non ho mai giocato in attacco ma c'è certi voi clienti mi ammazza ora dammi il complimento pure a me oh ma non so quale fa capito passaggio padroso avete lungato questa cosa c'era tutto solo tutto solo subito eh mi piace che queste partenze lunghe noi ne facciamo arti voglio far subito tutto dire così rapido che ha preso un tesoro bravo 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 le bravissimo le nooo la ci state eh il cuore il colpo da porto il passaggio dietro l'interno l'interno per capito sul cross io dire rientro al portiere ma è facile no adesso accanto le ho fatto triangolo che fai la passa subito cambia tutto o porco ciò l'ultimi cinque passaggiato sbagliati tutti o ancora perché voglia ha concentrato le passaggi che vanno per città io so bello come io pure e noi li soppi a tutti i palloni comincia a perdere tutti però no vai fomentalo le vedete questo bello che non ci trovi ve lo fa a vinta a venire basta ce lo sento aspetta vai no mamma mia bravissimo bravissimo ma brutto bravissimo ma brutto tu sei fermato il limite dell'aria un folle non si è vero se non lo faccia sbagliavo dai fida te ma come si perchè inizia a pensare a fare scattruffe un secondo cazzo si è mangiata la palla è ingoiata mi hai fatto la palla perché non si colgine oddio ha passato oddio la prateria oh no oddio 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 cos'è che facciamo con lo streaming con questo eh ahi boom vedammela ahi no no vabbè 3 a 0 me lo sto permesso anzi siamo al 4 ma prima siamo al 4 bro infatti questa malattia non ci può servire ma così io l'ho fatto ho fatto va il culo oddio io l'ho fatto così bello bello si è boom mi ascolti no mi ha fregato una cifra tu no no vanno un tiro un gol oh vaffanculo ho sbagliato io là oh è incredibile vanno un tiro un gol questi oh che cazzo ci hanno non ma il ciotolo fa bene tutto avverai questi che ne fa molti minimo 8 io e io che spengono non mi ritorniamo concentrati no mi 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 abbiamo pure vanda ecco ma chi sei solo ti leggo subito hai no sei domani se n'ero passata da solo da giunca ho salary tutto Ho un schema, sta buono, ho un schema Ho un schema, qua c'è tiro, io una volta che ci posso tirare c'è tiro Vabbè, tiro, ok, tiro Ho sbagliato, ho sbagliato No, volevo spostarmi col giocatore E io sono disposti che vai a destra e a sinistra Invece mi ha caricato il tiro L'ha funzionato Eh, ce l'ha, è facile Ma perché fanno i fanno Che cosa ha detto Dai, eh Mi prende la concentrazione, vedete Quando iniziamo a fare i cazzoni, diamo subito spimp e ripimp Grazie Ho fatto il problema da questi che tirano Dai, leo, ti prego, riprendiamo Vabbè, l'ho spazzata, lì dove fa? Ho spazzata lì Sto a far solo cerchio, mio papà, sto a far solo cerchio E non lo fa, va Deve lo spazzare, devo uscire Non serve Non serve ma sono un amo gioco no gioco persa tottene a mezz'ora uno verde bello durano così a mezzo minuto è giocata ma non vada gialli così io mi continuo a calcolami niente che sto sotto il live steam e saletti la telecamera per poi la telecamera manco mi ha caricato il coso delle testa vabbè però ci sono ancora due gol sotto mi piace però chesni mamma mi ha finto proprio come portiere ah il terzino stiamo a cerchi di terzino dai il terzino come siamo noi schiena no esco io no me la fa siglio che non mi fa vedere tu la passo parla sopra lunga quadrata davvero è fastidio non è che non mi devi far vedere da la passo ok già già sei solo lunga si è parata non ha fatto ora la forma c'è la cosa è pensato superarlo ma no 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 in gioco mamma mia come cazzo d'angosta linea sono grandi fosse giocatore andiamo portate di bona ma avrà avrà ma domande e allora i giallini il anno però era pelle ma le di un po dio uno due ma due presa nevoy contacchi i mili le libri ma mai sul tacco degli lini ho visto sì basta in collo che è fatto mai visto un collo così ma sei professionista mamma mia visione di ciò ma noi di che visione che c'è sono stilte bello abbiamo rilegnato se c'è niente questa è te? mh così un po' sì sì ah è scelta mamma mia questo è un macabro aspetta aspetta costa aspetta vai 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 precisissimo adesso mamma mia voleva la ruega però vabbè dai eh io ve lo so scopo io stai in veglia assa la valla su cosa è perfetta eh ma è tempo più abbiamo fatto proprio sti tu co vorremmo fatti fa ma subito quattro così ho fatto il tiro tipo l2 ma ho fatto ho venito a moglioni vabbè 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 faccio mamma mia come si si ma lo so nel certo da tutti york adesso quando uccione e ma io ho fatto via 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 ... ... ... ... ... Non c'è il tempo. Capitano, perché non me lo avevo i suoi? Prestazione, te? Grazie, la paura. Mi ho messo il transfer in Brasile o qua. Non ti piace il Brasile? Mi fa impassire sta ragazza di viso. C'è veramente il viso della mia ragazza. Che cazzo di questi strani c'hai? Oddio, che ha la germina nazista! Sì, vai! Vai, vai, sto a carico. Vai, uno, due! Cerebro! Oddio! Bello, mi piacciono gli uno, due così, però lo sai che mi caricano. Voglio urlare, voglio... Io segnavo, voglio urlare. Cazzo, si ammazza che mi hambre con il tuo cuore. Vai, che ce l'hai facendo. Non pensavo che la lascia così male. Questa è una posizione di rifinzione. Sì, sì. No. Mamma mia! Mi mando a dove è arrivato! In due, Savola! Tasta, lo fa pure io. In linea ha preso di valla a sciacola per terra con le frecce nei giochi dei massimi. No, lui! No, lui! Entra dentro, entra dentro, entra dentro! Vai, 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 vai! Vai! Muuuuh! Perché non piazzato lì? Eh, mi era piaciuta la botta. Eh, non era male che la botta. Eh, non era male che la botta. La botta ci sta sempre bene. Il cazzo vabbamilo. Dai, non va a pialle lui. Esci, esci, vai! Facchalo! Bravissimo! Concentro, no? Sì, sì. Vai, passaggio, vai! Sì, sì. Non va. Guarda, c'è il grosso. Oddio! Sì. Vai! Oddio! No, no, no! Ah, io ho due palle, io lo sai com'è! No, io ho due palle, lo sai! Ah, 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 ah! C'è un bello il mio livello! Eh, che bello, una cifra! Eh, beh, perché l'oliva viene sul destro! E poi così viene... Nooo! Ah, è uno, due! Ah, ah, ah! Ma eccitatissimo, mi ricordo, ma eccitato! No, non va, eh! Ma, non va, eh! Calma, eh, calma! Sono salito! Ma che ce l'hai! Vai, vai, vai! Ti preoccupa! Ancora! Bravissimo! Oh, è lungo lì, Ronaldo! Sì, t'ho visto! Oddio! 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 Però non c'è la volevo di un vizio! Beh, la bella che è! Eh, là! Io seguo quello, eh! Oh, ma... Facile, così! Aspetta! Oh, no! No! Eh, stiamo cariche, eh! No! Aspetta! No, no, no! Aspetta! Vai! Oddio! Prendila, subito! Subito, 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 bravissimo Non mi va passato Dov'è l'è? Allora, go Oddio, oddio, no Eh, lì mi cascava il cuore Mi metto bellissimo Vai, segui, segui, lo prendilo Non fa partire Lasciamolo, lasciamolo Tutto tuo Tutto tuo Bravissimo Oh, non mi fanno altro? Ma che è il blocco No, 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 no No, 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 Leo La sempre, uno, due, eh, la sempre Ma che ce l'hai? Tu, eh? Oddio Ah, se l'ha fatto brutto Un po' brutto, però, eh Un po' brutto, però, eh Un po' brutto, però Ah, beh, io sono arrivato ridardo Di erzo Ancora Non ti capisco Eh, ma se non ho più anni Ci volevo che mi prendessi Ronaldo E mi facessi uno, due, eh Ho capito, c'ho i tre Ci calori, ma potete Troppo lungo era andato Il tutto, sono andato Vai Aspetta, vai, Ronny, eh Aspetta, lo metto qua Vai Mamma mia Mamma mia Cazzo De movimento, le Quella palla Insieme a palla Dai, torniamo al groove, eh A parlarsi, capito Uno, due Sì, che stocco Oh, fa giù bene, oh Amma mia Mi sono fatto una scheda di braccio A Il creep Mi sono male pure le tira dei piedi In storia Dai, vai Tutto su Va bene Accurità, ma se vuoi No, ma cazzo Dio là, se faccio il tocchetto Un tocchetto E poi qua dietro c'è No, sta a seguire Ronaldo Non mi avevo preso l'autostrada Oh, ci sto, eh No, la passaggio subito No, ho preso, te No, ho toccato proprio Vaci, te Di lì Tanto è sciullo, ed è pure stanco Oh, no Pessoa difensore, eh Vai, vai, vai Sali E c'è dietro E c'è dietro Fanno ridere, fanno ridere Vai Sempre Ronny Vai Oh 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 Marca puttana Oh No, mazza Mazza, questo fa queste cose in difesa Oh Pesso del merdo Oh Questa difficoltà Io non ci arrivo, eh E ora ti mostri Più a me vai a coprire i gnappi sull'esterno Lì io sto a un mezzo Fracchiava, se ti pensi una cosa a lei Parla, non mi parla dopo che fa il go Perché non va solo lo si chiama Eh, perché lui deve essere sul momento Che devo fare? Io sto concentrato a coprire il suo Poi Eh, come lo dici, esci, io esco Eh, ci provo almeno Eccolo Mannaggia, fammi giocare No, ma no, che te ne voglio No, ma che te ne voglio Cioè, è più volare Va, Luca No No, perché ti ho appena detto parla Ma poi mi hai detto pazzo Ho detto sta zitto Eh, che cazzo Non ci facciamo niente Non te lo dico, non te lo dico Ti serve karma difensiva, eh Oh, karma difensiva Io sto tranquillo Cioè, mi sento tranquillo Che se maniamo più artico, porca puttana Marco Reus Marco Reus, come ha fatto per te Cazzo le bombe che tirano Guarda, dai, tre tiri Tu, come... Oh, mio dio Cioè, come mi fa di che questa... Cioè, sì, è carina le faccio, però No, mi piace il tipo Che cazzo, cazzo, cazzo Cioè, cazzo, cazzo No, no, solo il dito No, 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 no Cioè, devi guardare, beh, ti vado a Brasile Vasti cazzo Adesso sono pro, cazzo Oh, che cazzo, è Danilo, là No, è Sandro No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Dai, facciamo bene Oh, che cazzo Ah, questi devono essere rossi Questi devono essere rossi Da, come fai? Mi va a star, credo io Intanto, quando tante volte sono sempre te Carica tre e mezzo Pam, pam Bene Va bene Buona, la bocca era giusta Eh, ce l'hai Bravo No 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 Ha fatto da macchia Vai, vai, vai Vai, ce l'hai Bravissimo Dai a Broccolo, Mortacci Tua Tranquillo Vedi, io non Ma io non Vai, vai Passa No, vai Lugo Vai, vai, vai Bella palla Come la volevo io Ma c'è fermato Ma c'è fermato C'è un'idea mentale Dov'è i cocchellini? Vai, vai Preso No, vaffanculo Vado a Vado a che Vai No, vado a dir No, vado a dir E' la dirigita Sì Sono seti carico Oh Orca madonna Vado Oh, abbiamo due Viewers Un saluto Che cazzo so Oh, abbiamo due persone che ci stanno a guardare Belli, negri Vai Oh, concentrato Ok, al passaggio dietro Salmone Vai Dimmi Ancora Ancora Carca madonna Porca Vai, vai Centro Esci, esci Vai, dove Non ti schiacciare Ragione, vai Ma sentite manare i territori Stiamo ormai Ma andai sotto Aspetta che arrivo, eh No C'era troppo vicino Oddio, non te fosse però No Senza cerchio Lì Porca puttana Porca puttana Dai, eh Dai, eh E' negro No L'ha fatto L'ha fatto il gugliaio No No, non sta zittile Porca puttana Lo sapevo Non mi so affidato Per il mio istinto Eh, io pure Io stesso Per dimori Al centro No Se sta a mezza Balla Sta ballando Sta ballando Adesso Ho detto All'ultima Mamma Oh, dai Che foale Oh, porca troia In voi Per le vostre vite Guarda che coscione Che c'ha Vabbè, te E' brasiliano E' normale No, ho capito Così C'era da mangiare Per due mesi Con sta coscia Vabbè, l'ha pure Struccata Vedi Vabbè, ha preso Pure la meno Pregi C'era giuntino No, guarda che cucchiaio T'ha fatto Dai, ho la canna Dai, sto scherzando Vai, sei pronto? L'ho fatto pure a te Anzi, più a te La chiedeva Oh, che c'è Oh, David Dai, dai, dai Dai, vai Ma questi poi Non erano scarti Stava romper culo All'inizio, scusa No Guardate Tranquillo Passaggio 1, 2 Tranquillissimo Ricordate Ricordate 1, 2 Eccole Ma guarda che cazzo Tu 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 Oh, sto con le testa là, quello non riesce a fregare Non ho chi passare, l'Alea, mi sei sparito con tutti Bravo Dai che hai preso Va bene, va bene, continuiamo così, continuiamo così Oh, lo dì Oh, mai falli, non mi li dà Dai che ha preso Vai, entra L'islazio fa a perder il pallone adesso No, vale No, vale E sta a bruciare il culo mo', lo sento No, ha girato tutta No E poi mi dici, ma il problema di mannami è come se sei pronto veramente per il tiro vabbè per ora non te lo dico più che non ti dico niente che cazzo ogni volta ti dicono cosa ma vabbè ma vaffaculo ho passato ho passato prendilo ma è nostra no vabbè metticelo mi ha fatto tre tiri tre go che c'è qui sono dei berchi ma sei sicuro che è mancino tu sei sicuro che è mancino però te stavo a dire stai cura più ma perché non me la passano ho detto parla ah dai se ti dico parla me li fa me giocà oh gli hanno fatto a far me fan tiro non abbiamo giocato male abbiamo fatto quella compattezza dimensiva che di cui parliamo ora la cosa non ti fa la compagnia ma se tu non hanno perduto 0 a 2 con cosa non hanno perduto nici non è che dici Apex Grazie.